ciao a tutti oggi è domenica 18 giugno 2023 allora sto allestendo le serrette per la coltivazione delle delle piantine per le piantine per l'orto invernale e volevo farvi vedere un po come le ho fatte perché l'ho fatte io in fai da te l'anno scorso e noi volevo far vedere un po al dettaglio ne ho fatte tre vedete una che già piazzate modalità estiva 2 e la terza la stavo spostando adesso perché questa qui la sposto d'inverno e la vado a mettere in un posto un po più soleggiato perché qui c'è la casa un po in ombra vedete il sole est vedete il sole mattina poi sud è lì e quindi mi interessava l'inverno averla più più al sole e poi d'estate le metto qua ne sposto solo una di solito che la utilizzo per per le lattughe per le cipolle e queste qua invece le uso le uso principalmente nel periodo che va da adesso diciamo fino al 15 15 20 di agosto che poi metto tutto in campo allora sono praticamente delle mini serre quale vedete in piedi perché ve l'ho messa in piedi per farvi vedere un po come sono fatta come l'ho fatta è fatto tutto con materia di recupero allora in pratica il mio vicino ha liberato la mansarda e buttava via delle reti le reti da letto quelle in ferro zincato e ne buttava via diverse quindi non mi ricordo se erano 9 o 10 allora cosa ho fatto le ho prese e allora due le ho usate come erano cioè questo lato che è il lato sotto vedete il lato dietro lo lasciate come erano mentre quella davanti l'ho accorciata vedete che bellissime saldature a eletrodo piene di buchi che ho fatto io che non sono un gran saldatore poi spessore ridicolo roba mezza arrugginita e in pratica hanno la dimensione di di una rete quindi dovrebbe essere se non erro sul metro 80 a metro 90 dietro idem perché chiaramente sono uguali e hanno dei letti singoli ma aveva la stessa dimensione davanti ho ottenuto la stessa dimensione vedete e poi l'ho accorciata sarà sarà sui 50 centimetri circa vedete 20 40 un 50 centimetri davanti poi l'ha fatto un po come vede come volete perché io non l'ho tutto uguale l'ho fatta un po con con materia di recupero e poi ho saldato dei tondini e qua è saldato saldato vedete qui elettrodo qui elettrodo proprio per tenere la ferma qui elettrodo e ho messo dei spessori vedete perché se no si bucava giù tutto e poi qua ho saldato dei tondini di quelli da da muratori diciamo che usano per fare per fare le gettate di cemento quello rinforzato ad alta aderenza vedete l'ho saldato qui e e poi sopra io qua ho messo una rete che avevo però se no si possono mettere dei grigliati potete mettere un grigliato avete come su un po un grigliato perché se no si sfondava e così e poi nella parte di fianco ho messo dei plessi gas vedete tarsi gas di recupero che ho acquistato in discarica l'ho forato su quale me l'ha importato dei dei ragazzi che lo smaltiscono l'ho pagato poco vedete sarà un centimetro di spesso no di più 2 cm circa 2 centimetri di spessore poi ho fatto dei buchi ci ho messo un po di filo di ferro un po di filo di ferro vedete e l'ho fissato nella parte laterale di fianco per lo sagomato lo sagomato con con la circolare vedete in modo da solo vi faccio vedere il dettaglio di una questa qua vedete questa qua è uguale forse cambia credo che sia più alta davanti poi al plessi gas di fianco e un ton e poi chiaramente c'è un rinforzo nella parte centrale perché sennò andava a flettere un pochino questa qua e sono uguali questo qua ho usato una struttura che avevo zincata ma nella parte davanti ma sotto sono sempre reti rete da letto poi ci ho messo un tondino per tenere un po ferma e poi in pratica mi sono fatto mi sono fatto mi sono fatto mi sono fatto il un telo questa quella modalità invernale praticamente un telo di quello da serra ho fatto con dei tubi d'acqua vecchi mi sono fatto una maniglia e lo metto lo metto sopra nella per quanto riguarda la parte invernale quando lo uso d'inverno ci tiro il telo da dietro vengo avanti lo copro tutto e poi lo posso avvolgere vedete comunque il tubo la lo posso avvolgere lo posso mettere tipo qua lasciare aperto eccetera mentre la modalità estiva perché se metto il telo mi frigge tutto metto una rete anti di quelle anti grandine ok per la cavolaia anche qua e sopra metto un ombreggiante sia d'inverno sia d'estate mi sono fatto dei contropesi caso vi faccio vedere per tenere teso il il sia il telo sia il tessuto ombreggiante ok e poi metto chiaramente le piantie adesso non c'è il sole ma un po di sole chiaramente entra il pomeriggio perché entra e ho visto che non vanno male vedete c'è del sedano rapa del basilico del adesso non per ammire il nome ve lo dico allora porri questi sono finocchi porri porri e basilico tutto basilico e c'è un po d'origano la vedete poi dopo una zanzariera un telaiate gliela metto davanti anche perché la cavolaia non vorrei che l'anno scorso non sono passate però lo metto sempre quella davanti così c'è il telo ombreggiante sopra la zanzariera davanti e la cavolaia non entra qui adesso chiaramente non c'è niente che possa attiare la cavolaia perché non ci sono cavoli però ne ho tantissimi da ripicchettare infatti sto piazzando il tutto perché adesso nei prossimi giorni cominciamo a ripicchettare e l'ora e dopo lì c'è una zanzariera dopo magari vi farò vedere tripla la metto in appoggio eccetera e questi qua sono i tiranti vedete sono dei di mattoni forati con un tondino di ferro ci mettono chiaramente in tensione come vedete qua e tengono e tengono tutto tirato e non si non si muove quasi mai vedete nient'altro volevo solo farvi vedere questa serretta qui fatta in fai da te perché se qualcuno se la vuole fare vedete ne può prendere spunto se avete qualcosa da chiedere scrivete pure nei commenti o scrivetevi al nostro gruppo di telegram del progetto biodiversità condivisa e dove potete chiedere tutto quello che volete dimensioni come farle eccetera e vi saluto vi ringrazio e alla prossima ciao a tutti ciao ciao ciao